segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te diciamo un miliardo di finanziamenti mezzi militari armamenti ne manderemo ancora per tutto il 2023 l'ultimo diciamo che stiamo preparando all'invio è un sistema diciamo missilistico insieme con la Francia contestualmente però questo è quello che fa l'Italia poi c'è quello che chiede l'Ucraina che sta chiedendo all'Europa all'Occidente e sono soprattutto i carri armati nelle loro diciamo varie tipologie una richiesta che è cambiata rispetto alle richieste di altre fasi della guerra allora cosa ci dice l'arma richiesta della fase che attraversiamo del conflitto ecco questo è importante cioè c'è una rimodulazione dello strumento militare ucraino diciamo coerente con la fase bellica che si sta attraversando quindi Zelensky in questo momento ritiene di aver bisogno di difendersi in una maniera più robusta con un sistema più blindato dagli attacchi aerei segnatamente da quelli misilistici che sono i più insidiose e nello stesso tempo ed è il sistema che stiamo appuntando insieme alla Francia non dico l'antimissilistica dei missili da crociera russi praticamente ecco e ne hanno diciamo di abbastanza insidiosi ecco l'onore delle cronache di questi giorni è stato di questo messire Zircon imbarcato su una nave sta facendo una resursione Cina, Sudafrica eccetera e poi allo stesso tempo quindi sente questa diciamo questo fatto che è sguarnita la sua difesa aerea che ha dei buchi sostanzialmente e nello stesso tempo vuole attrezzarsi per ricacciare indietro o comunque per fronteggiare questa spallata di cui si sta di cui si sta narrando adesso che in primavera o massimo all'inizio dell'estate Putin dovrebbe portare allo strumento militare ucraino quindi sta facendo in modo che questa spallata non vada a compimento e il sistema ucraino tenga ecco poi che sia esattamente ciò di cui ha bisogno è un altro discorso perché insomma oggi sta prendendo piede questa equazione che cararmato soltanto fronteggiabile da cararmato ugualmente performante o più performante non è così lei ha fatto un esempio nel suo articolo su formiche no del Kosovo credo fosse l'esempio esattamente guardi nel Kosovo non è entrato neanche un soldato cioè quella è stata una guerra che hanno fatto soltanto le forze aeree a un certo punto l'esercito ha chiesto di entrare ma diciamo noi abbiamo resistito e abbiamo terminato una guerra di 78 giorni neanche una vittima da parte nostra e neanche un soldato e neanche un elicottero ha messo piede nello spazio aereo o sul territorio e noi carri armati andiamo a prendere uno per uno con dei velivoli delle volte anche con dei droni appositamente attrezzati diciamo che non erano molto attrezzati allora e la cosa è finita così delle volte abbiamo battuto gli stessi target per due o tre volte non sapevamo più non avevamo più target non c'erano più bersagli alcune cose sono diciamo replicate nel teatro ucraino no per esempio diciamo tutta la difesa aerea serba che c'era ed era molto diciamo efficace è stata azzerata e quindi si è riuscita a azzerare una difesa aerea di un paese nemico figuriamoci nei territori ucraini quanto dovrebbe essere diciamo abbastanza semplice fare in modo che i cieli ucraini siano governati dall'ucraina e che quindi i russi non non minano non non costituiscono una minaccia ai nostri elicotteri nostri value quindi secondo me la guerra aerea che doveva essere quella che quantomeno all'inizio avesse l'esclusiva delle operazioni invece è stata diciamo sottovalutata sottostimata e ancora oggi ancora oggi si considera si continua a non considerare le potenzialità dello strumento aereo che invece però perché sarebbe un impegno occidentale troppo diretto nel conflitto un po' come la presenza di uomini a terra occidentali è quello il freno sì bisognerebbe potenziare anche la componente aerea ucraina no io leggevo proprio le prime settimane anzi i primi giorni forse il conflitto un la valutazione un pilota ucraino un pilota esperto che chiedeva agli f16 dice noi saremmo gradi in due tre settimane di operare gli f16 no da allora sono passati 11 mesi quindi se si fosse predisposta una un allestimento di uno strumento militare aereo capace sicuramente la guerra avrebbe preso un'altra un'altra piega ma ancora oggi può succedere però bisogna strutturare questa capacità che sembra un po' scomparsa dai radar sia da parte ucraina che da parte russa sì tra l'altro pare che per riassumere un pochino il generale tricarico dica attenzione a contare sui carri armati perché pregresse esperienze militari ci dicono che sul teatro di operazione rischiano di avere minore efficacia dovremmo dare più strumenti immagino droni pezzi di ricambio e quant'altro per potenziare la tenuta dei cieli ucraini e nel frattempo è cambiata anche la tipologia di battaglia che si consuma per esempio in donbass alfredo bosco grazie a tutti